buongiorno allora ci incontriamo questa mattina siamo il 24 di novembre per uno dei webinar di presentazione del corso del master in giornalismo dell'università degli studi di Bari l'edizione è quella del 2021 e stamattina presentiamo il lavoro di due colleghi che lavoreranno a questo master il punto di incontro e di discussione saranno le fake news true stories uno degli argomenti una delle questioni che al centro del dibattito della comunicazione giornalistica nella sua fase nella sua storia della disintermediazione marilu marilu mastro giovanni vuoi introdurci la tua prospettiva sul problema di quelli delle fake news sì grazie filippo professore silvestri grazie e il tema all'ordine del giorno in tutte le redazioni probabilmente e quindi anche all'interno del master in giornalismo dell'università di Bari che ricordo dopo i due anni di percorso accademico e laboratoriale da accesso poi all'esame di stato per diventare giornalisti professionisti ed è uno dei pochi master presenti in italia mi piace faccio un piccolo cappello filippo concedimelo perché molto importante e dal comitato degli esperti dei valutatori all'interno dell'ordine nazionale dei giornalisti è stato valutato come il primo del sud italia e il terzo in italia quindi di orgoglio mi piace mi piace ricordarlo ogni volta il tema delle fake news i grande attualità e per per noi giornalisti che lavoriamo quotidianamente nelle redazioni perché ci mette alla prova mette alla prova il nostro lavoro specifico che è quello di verificare i fatti e oggi più che mai i giornalisti hanno a trovare nuove tecniche di debunking così vengono definite cioè nuove tecniche che si aggiungono a quelle tradizionali di fact checking cioè di verifica dei fatti che sono tipiche della professione giornalistica si sono evolute nel tempo a seconda delle tecnologie che vengono utilizzate però gli strumenti del mestiere i cosiddetti ferri del mestiere rimangono inossidabili quindi verifica delle fonti verifica dei fatti e verifica soprattutto della notiziabilità di un fatto nel momento in cui riconosciamo che quella notizia è di interesse pubblico e l'abbiamo riconosciuta come tale è il nostro dovere pubblicarla il debunking invece è che è una evoluzione e si porta avanti anche attraverso l'utilizzo di software specifici che ci consentono di distinguere le manipolazioni anche a livello di immagini e di video all'interno del flusso dell'informazione ci sono delle tecniche di debunking che ci permettono di distinguere un video originale da un deep video cosiddetto deep image cioè immagini o video manipolati artificialmente ma che sembrano veri quindi questa è la nuova sfida dal punto di vista dei giornalisti dal punto di vista dei lettori utenti è una sfida ulteriore perché già a partire dall'età scolare e quindi scuole primarie scuole secondarie poi università i ragazzi hanno la responsabilità di aprire gli occhi studiare e diventare cittadini e cittadine attive anche utilizzando bene l'informazione che arriva loro ovviamente servono docenti e docenti professori se parliamo maestre maestri se parliamo della prima età scolare a loro volta preparati su un tema delicatissimo che è quello dell'informazione roberto roberto con a voglia tu lavori per lanza qual è il tuo punto di vista la prospettiva su questo problema delle fake news ma io credo per restare all'attualità che questa pandemia abbia reso centrale un'informazione di quanto sia importante e affidabile un'informazione seria perché in questo periodo ne abbiamo sentite davvero di tutti i colori cure improvvisate per debellare il coronavirus novità che non c'erano sui vaccini quindi io do sempre questo consiglio anche parlando con i giovani con gli studenti del master in generale bisogna cercare di certificare le notizie cioè noi dobbiamo noi giornalisti dobbiamo fare il nostro lavoro che è quello che ha ben evidenziato marilu però gli utenti devono anche imparare a cercare notizie che siano certificate perché quello delle fake news ormai è un'emergenza internazionale mondiale addirittura anche i governi si stanno muovendo per debellare le fake news e per educare la gente a scegliere fonti affidabili di notizie recentemente il governo italiano il sottosegretario dell'editoria martello ha annunciato la costituzione a palazzo chigi di un gruppo di lavoro che lavorerà in ambito scientifico per fornire una informazione certificata e quindi per sconfiggere le fake news ci sarà una sorta di hub un sito istituzionale nel quale confluiranno tutte le notizie scientifiche per informare l'opinione pubblica sulle cure sul vaccino sempre in ambito scientifico mi riferisco ovviamente al coronavirus addirittura c'è chi parla anche di un fenomeno criminale legato alle fake news perché nel momento in cui ci sono quelle notizie che compaiono sui social sulle cure per esempio per il coronavirus queste quei siti cercano soltanto di rubare informazioni a tutti gli utenti che vanno a certificare quelle informazioni che sono poi delle bufale come vengono chiamate io vedo che c'è marilu parlava del fact checking recentemente la france press che una grandissima agenzia giornalistica a livello mondiale ha costituito proprio un gruppo di lavoro composto da 100 giornalisti che lavorano in 40 uffici del mondo per cercare la veridicità delle notizie che compaiono sui social ci sono quindi addirittura 100 giornalisti che verificano attraverso la consulenza di alcuni scienziati se quelle notizie sono vere anche la rai in particolare ha addirittura ha costituito una task force che chat di giornalisti che chat con un gruppo di scienziati per capire se le notizie che circolano sui social siano davvero notizie attendibili anche la lanza per la quale agenzia per la quale io lavoro ha costituito un gruppo di lavoro per certificare terminate notizie addirittura noi abbiamo sul nostro sito internet un bollino che certifica la qualità di delle notizie e attraverso quel bollino cliccando su quel bollino si può arrivare al notiziario dell'ansa al marchio dell'ansa al numero del server di protocollo della notizia che è stata appunto pubblicata perché in passato ci sono state delle notizie pubblicate con il marchio delle agenzie con il marchio di alcuni quotidiani illustri ma che erano delle bufale io ne ricordo una alla fine della scorsa della prima ondata della pandemia che parlava era uno specchietto nel quale si parlava di tutte le riaperture delle industrie degli esercizi commerciali era attribuita a lanza ma invece lanza non l'aveva mai pubblicata era una contraffazione proprio per evitare queste contraffazioni appunto bisogna darsi da fare però noi ce la mettiamo tutta però il problema è educare la gente non bisogna andare su facebook sui social e cliccare sul primo sito di informazione che compare bisogna capire se quella notizia è una notizia vera non bisogna credere insomma diciamo alle bufale marilu senti come come ti confronti tu oggi come giornalista professionista con la dimensione dei social credo che i social siano una grande opportunità per per i giornalisti per le redazioni per i gruppi di lavoro che si occupano di notizie in generale anche per il mondo accademico che riesce a interfacciarsi in maniera molto più agile con la propria utenza quindi con gli studenti con le studentesse è un modo per divulgare al massimo il proprio lavoro certo un problema che si pone dinanzi alla scelta di allargare l'utenza eh attraverso i social è quello che eh i lettori eh si fermano purtroppo a quello che viene scritto sui social e non vanno oltre non vanno oltre c'è difficoltà a indirizzare il flusso dei lettori sui propri sui propri siti eh si fermano sostanzialmente al titolo e al post che viene pubblicato sul social questa è un'arma a doppio taglio è un'arma a doppio taglio perché ci sono siti che eh sono specializzati proprio in clickbaiting così definito cioè eh titoli che attirano eh il click e che hanno solo quell'obiettivo quindi titoli strillati titoli urlati titoli che utilizzano anche il linguaggio violento e eh poco equilibrato il linguaggio dell'odio sono purtroppo quelli che attirano di più le tecniche del clickbaiting sono tipiche del mondo pubblicitario e sono assolutamente eh dannose per non non solo per l'immagine non solo per l'immagine del della categoria dei giornalisti ma sono dannose proprio per l'informazione se vogliamo proporre un'informazione equilibrata nell'equilibrio secondo me è la chiave del successo per utilizzare correttamente i social anche dal 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 lato giornalistico sono sicuramente uno strumento che ci avvicina ai ragazzi e alle ragazze eh ma sono uno strumento che si deve utilizzare con competenza non a caso eh i gli gli studenti all'interno dell'università e anche all'interno dell'università di Bari e del master in giornalismo vengono formati per un corretto utilizzo dei social eh insegniamo il SEO eh il cioè le tecniche per eh scrivere con le corrette parole con le giuste parole chiave eh per ottenere una migliore indicizzazione all'interno del mondo web quindi mh questa eh questo utilizzo di tecnicalità quindi il SEO utilizzato all'interno degli articoli giornalistici non deve essere vista dai giornalisti dalle giornaliste come una diminuzio della loro libertà semplicemente è una tecnica in più da applicare alla scrittura per poter raggiungere un'utenza più ampia e un po' come come si è sempre fatto come quando è entrata nel mondo dell'informazione la televisione i giornalisti ammarsi per utilizzare correttamente il video per parlare correttamente nel video il linguaggio del video che si usa nella tv è diverso dal linguaggio che si usa per la carta stampata o per la normalmente quindi il giornalista deve imparare a utilizzare i diversi mezzi di comunicazione diversi media ecco i social sono un nuovo medium al servizio dell'informazione e come tale i futuri giornalisti e giornaliste devono sapere al meglio devono essere formati per questo eh Roberto ti volevo chiedere di andare a concludere questo nostro webinar di stamattina eh se vuoi descriverci il modo in cui tu stabilisci la notiziabilità eh e l'interesse pubblico di una notizia come come ti muovi? Allora prima di tutto ormai c'è un flusso di notizie che arriva dalla posta elettronica ci sono tantissimi professionisti soprattutto avvocati io mi occupo mi occupavo prevalentemente di tronaca giudiziaria me ne occupo ancora eh che ci mandano eh moltissime notizie allora nel momento in cui arriva eh una notizia per esempio una sentenza da un avvocato che non conosciamo eh bisogna necessariamente verificare se eh la persona che ci scrive è realmente un avvocato anche perché la carta intestata a noi non basta più io vado sull'albo e vedo se quella persona è un avvocato cerco il numero di telefono molte volte sull'albo c'è anche il numero di telefonino dell'avvocato e lo confronto con quello della carta intestata dopodiché io lo chiamo se l'avvocato in questione non mi ha mandato la sentenza di cui parla perché molte volte non ci mandano l'atto ci mandano un comunicato stampa e allora io chiedo la sentenza nel momento in cui mi manda la sentenza io lavoro non sul suo comunicato ma lavoro sulla sentenza dopodiché posso anche chiamarlo per capire se c'erano in quel processo degli altri imputati la cui posizione è stata stralciata in precedenza e quindi ci lavoro questo perché noi a Lanza abbiamo alzato tantissimo la soglia del controllo perché in passato pochi anni fa è capitato che c'era un avvocato che ci mandava notizie che erano assolutamente false che noi non potevamo non pubblicare perché ovviamente erano delle notizie strillate ma erano delle notizie assolutamente false noi nonostante avessimo già un livello alto chiedevamo a questo avvocato le sentenze l'atto di citazione della storia di cui ci narrava questo avvocato ci mandava gli atti che poi successivamente sono risultati essere stati contraffatti di sentenze e atti di citazione io ricordo l'atto di citazione di una giovanissima coppia che era sulla posta concordia nave naufragata come tutti sappiamo che aveva deciso di fare causa perché la donna era incinta e aveva perso il figlio nonostante i controlli la notizia fu pubblicata da tutti e solo dopo successivamente abbiamo scoperto che questo avvocato aveva contraffatto gli atti è chiaro non c'erano sentenze c'erano atti di citazione che non possiamo verificare altrove potevamo verificare soltanto parlando con la coppia ma in questo caso che cosa succedeva che lui aveva creato delle aveva messo su proprio un imbroglio perché a quel numero di telefonino che lui ci dava rispondeva una persona che diceva essere la parte di quel futuro processo cioè addirittura la donna che aveva perso il figlio su quella nave ecco perché vi voglio spiegare con questo esempio quanto sia difficile poi verificare determinati determinate notizie è chiaro ce ne siamo accorti dopo aver pubblicato la prima la seconda notizia ce ne siamo accorti però il livello si è alzato notevolmente però il rischio è sempre in agguato bisogna cercare di non demordere di verificare cento volte una notizia e bisogna avere anche un po di fortuna secondo me noi ci regoliamo anche in questo modo quando le notizie sono davvero sensazionalistiche cerchiamo di fare un controllo in più marilu vorrei chiedere a te di chiudere questo seminario di oggi dando appuntamento a tutti gli studenti al master che sta per partire sì grazie filippo questi seminari di approfondimento sono stati voluti progettati dal coordinatore del master in giornalismo il professore luigi cazzato che ha scelto di fornire ulteriori elementi agli studenti alle studentesse interessati al mondo del giornalismo che vogliano avvicinarsi al master o decidere di iscriversi le iscrizioni scadono il 30 novembre il master è a numero chiuso perché i posti sono limitati tanto tanto più perché ci sono anche delle borse di studio totali e parziali a copertura dei posti disponibili quindi diciamo è un master davvero molto appetibile dal punto di vista delle ragazze e dei ragazzi che vogliono che sognano di diventare giornalisti e giornaliste professionisti allora noi diciamo ai ragazzi e le ragazze abbiate il coraggio di inseguire i vostri sogni se è questo che avete in mente abbiate il coraggio di farlo e iscrivetevi al master perché è una davvero una offerta formativa d'eccellenza ancor più perché è al sud quindi coniughiamo qualità della vita e qualità della professione dell'insegnamento grazie grazie a tutti arrivederci